Parau! Buongiorno! Tengo quella cosa per voi. La Madonna dei Settevei! Ehi! A vera me! Che facete? Scenite? No, porto la coppia! Eh, ma vedete, delicata, eh! Guardate la mano! Vabbò, se stanno problemi, tornate a voto! No, no, aspira, arriva! Vado con la madre! E così per Marcello non c'era più posto. Mo' ero veramente all'hand alone. Allora! Allora!